Ricorso inammissibile. Con questa motivazione la quarta sezione del TAR di Catania ha respinto il ricorso presentato dal sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante contro la delibera di consiglio comunale di un anno fa in cui venne abbattuta l'IMU portandola alla liquida minima del 2 per 1000. In quella seduta di fine ottobre 2012 l'opposizione, diventata maggioranza per le diverse assenze dei consiglieri vicini all'amministrazione, approvò la liquida immu, abbassando quella sulla prima abitazione di due punti, di un punto quelle sulle altre abitazioni, di tre punti quella sui fabbricati destinati ad attività produttive. Il ricorso al TAR, annunziato dal sindaco Giuseppe Pizzolante in virtù dei pareri contrari dei revisori dei conti e dei responsabili dell'ufficio finanziario, ha conosciuto l'epilogo nei giorni scorsi con la pronuncia della quarta sezione del Tribunale amministrativo. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile in quanto il Consiglio agito nei limiti delle sue competenze e nelle possibilità date dalla legge. Tra l'altro, scrive il TAR, la legittimazione del sindaco all'impugnazione delle delibere consigliari deve essere ammessa soltanto qualora venga dedotto lo sconfinamento nell'ambito di competenze o poteri propri dell'organo esecutivo, mentre deve essere esclusa qualora si ipotizi semplicemente la lesione dell'interesse al buon andamento dell'ente e il sindaco agisca solo a tutela del principio di legalità dell'azione amministrativa o degli interessi del Comune. Grazie